Sicurezza sui treni e nelle stazioni piemontesi. Il consigliere regionale Francesco Graglia di Forza Italia ha presentato all'assessore ai trasporti Francesco Balocco un question time su quali fossero le misure previste per migliorare la sicurezza dei viaggiatori. Sulla tratta ferroviaria Torino-Cuneo sarebbe considerata come tra le più pericolose della regione Piemonte per causa dei diversi episodi di violenza registrati da inizio anno. Ha ritenuto che tali violenti accadimenti che purtroppo non rappresentano casi isolati, verificatosi con sempre maggiore frequenza negli ultimi anni, forniscono una brutta immagine del Piemonte. Interrogo l'assessore per sapere quali misure si intendono adottare al fine di evitare e ripetersi di violenta aggressione ai danni del personale delle ferrovie dello Stato e rendere più fruibile e sicuro il trasporto ferroviario regionale. L'assessore regionale Augusto Ferrari, che ha risposto a nome dell'assessore ai trasporti Balocco, ha ricordato che gli agenti della Polfer e le squadre di assistenza Trenitalia hanno intensificato i controlli sia a terra sia sui treni per contrastare le aggressioni e gli atti vandalici. Secondo i dati presentati dalle forze dell'ordine, nel 2018 si è registrato un sensibile calo di aggressioni fisiche o verbali a danno del personale viaggiante e degli atti vandalici sui treni frutto delle attività di prevenzione e repressione che hanno prodotto significativi risultati. 30 casi nel 2018, 13 meno rispetto al 2017, in linea con la tendenza nazionale. L'assessore ha ricordato poi alcune innovazioni previste per migliorare la sicurezza sui treni e nelle stazioni. Un contributo lo potranno dare sicuramente i nuovi treni che entreranno in esercizio del prossimo anno, dotati di sofisticati sistemi di telecamere di sorveglianza. Ho richiamato inoltre la necessità di attivare le misure già previste come l'introduzione dei tornelli, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza o in fasi di sperimentazione come le bodycam in dotazione ai capi treni, ovvero sistemi a circuito chiuso che riprendono le fasi di controlleria effettuati dal personale di bordo e che possono fungere da deterrente nel momento in cui si avvisa il passeggero che viene ripreso.